Benvenuti su Strade Toscane, il format settimanale su viabilità e canteristica di Muoversi in Toscana. Vanno avanti i lavori sul secondo lotto per la variante all'abitato di Stagia Senese nel comune di Poggi Bonsi sulla strada regionale 2 Cassia. Si tratta di interventi di miglioramento della sicurezza stradale, in particolare dei punti critici della viabilità con il maggior numero di incidenti e di variante ai gentri abitati congestionati dal traffico. Dopo l'inaugurazione più di un anno fa del primo lotto, che si sviluppa ad ovest dell'abitato di Stagia per una lunghezza complessiva di circa 520 metri, e che collega la regionale 2 a nord del paese con la strada provinciale 70 del castello di Stagia, per cui furono stanziati circa 3.200.000 euro, siamo nel pieno dei lavori del secondo lotto, che dureranno fino a metà giugno 2025. Questi lavori completeranno la variante nel tratto tra la strada provinciale 70 e la regionale 2 a sud dell'abitato di Stagia Senese, anche il quadro economico complessivo del secondo lotto è di circa 3.200.000 euro. Strade Toscane è un servizio settimanale realizzato da Firenze Smart per muoversi in Toscana.